Buongiorno, professoressa Bellofiorelli, vorrei fare un'intervista per quanto riguarda il progetto Erasmus che ha svolto in Italia. Quando è avvenuto questo viaggio? Questo progetto Erasmus prevede due viaggi. Il primo viaggio abbiamo fatto l'anno scorso nel mese di maggio, quest'anno abbiamo concluso una seconda uscita di nuovo nel durante il mese di maggio. E cosa porta questa esperienza per i professori? Per i professori porta ad un arricchimento esperienziale e culturale che poi verrà trasmesso agli alunni in classe e agli articoli centri di inizioni di maggio. Avete frequentato anche dei corsi di lingua inglese? Abbiamo frequentato dei corsi di lingua inglese e sessiva l'anno scorso di anno quest'anno per approfondire la conoscenza del mese. Guarda, ultima domanda, gli è piaciuto questo cambio di ruolo? È stato un cambio di ruolo divertente perché siamo diventati più amici e abbiamo un terremoto nostro e un'unica. E ringrazio lo stesso per lasciare rispondere. Mi vedo!